Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Eccoli lì, sono loro! Andavano da lui tutti gli abitanti della regione della Giudea e di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, mentre confessavano i loro peccati. Giovanni aveva un vestito di peli di cammello, una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di locuste e miele selvatico. Rabbi! Predicava dicendo, Dopo di me viene uno che è più forte di me, a cui io non sono degno di piegarmi a sciogliere i legacci dei suoi calzari. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà con Spirito Santo.